Io credo che ultimamente, ripeto, non solo le ultime due partite perché abbiamo raccolto dei punti, ma nell'ultimo mese l'identità si sta formando velocemente, siamo molto più fluidi, io non mi accontento mai, ma così anche i miei giocatori vogliamo diventare sempre più pratici e anche estetici. Laddove però l'estetica non paga, io preferisco sempre la praticità. Credo che ci siano tre punti in paglio e chi se li aggiudica tutti vuol dire che uno ha perso tutto. Noi come mentalità pensiamo di poter andare lì e giocarci le chance per poter portare via qualcosa. Sappiamo che sulla carta sembra un incontro così impari, ma è anche vero che nel calcio secondo me attraverso il crederci, l'organizzazione, la compattezza e ognuno con le proprie qualità si può raggiungere tanto e noi cerchiamo di far quello. Mi aspetto contro l'Inter, è una partita molto molto difficile dove conterà sicuramente la lettura per tutta la durata della partita perché siamo in casa loro, in uno stadio importante contro una squadra molto molto forte che può avere delle difficoltà o ha avuto delle difficoltà ma con avversari sicuramente con un'esperienza diversa dalla nostra. Noi dovremmo essere bravi a captare tutto ciò che possiamo raccogliere senza farci sfuggire la possibilità di poter portare via qualcosa. Prima per il pareggio? Ma per la continuità dei risultati certamente che sì, però secondo me la praticità non può non legarsi al sogno e quindi non so come, preferisco giocarmela poi. Se all'ultimo minuto mi dite che siamo in parità possiamo pensarci. Sente mister, si va con il morale alle stelle perché è una vittoria psicologicamente diciamo libera i ragazzi eventualmente, di fronte avremo un Inter che psicologicamente sarà molto molto contratta anche con la spada di Damo che dei tifosi che potrebbero fischiarla al primo errore. Sì, questo potrà succedere ma sono nazionali, campioni, gente che ha un certo tipo di esperienza. Se dovessero farsi influenzare dal pubblico credo che ci sarebbe qualcosa che non va. Ma detto questo è il loro pubblico. Noi dovremmo cercare solo di fare la nostra partita contro di loro, contro il sostegno che avranno o non avranno, non ci interessa, tutto qua. Non è che dobbiamo fare qualcosa di più, non è che abbiamo il morale alle stelle. Abbiamo la contentezza di aver raccolto nelle ultime due partite dei punti importanti e questo ci dà la consapevolezza. Ma né un'eccessiva eccitazione né un entusiasmo, quello c'è sempre stato. Tra l'altro chi gioca nella nostra realtà non può permettersi di non averlo, quindi andiamo avanti. Guardando la classifica, Crotone a cinque punti ha riagganciato questo minigruppo della base della classifica di Serie A. Per dieci partiti ci siamo sentiti attaccati con il Crotone che non meritava di fare questa classifica. Dico ora un po' di rivals, perché forse sono le altre squadre che hanno un po' falsato, se qualcuno ha detto così, nei confronti del Crotone questo campionato. Squadre che sicuramente avevano una rosa all'altezza delle Serie A, maggiormente del Crotone, si ritrovano a un punto di distanza dalla squadra rosso-blu. In questo momento i punti dicono questo, ma sia per noi che per loro non è che questo svantaggio potrebbe diventare più cospicuo, oppure potrebbe ridurre ulteriormente o addirittura, come ci auguriamo, magari anche sobravanzarli. Noi dobbiamo solo pensare, concentrarci e preparare ogni partita come se fosse la partita decisiva. Poi alle volte riusciremo a portare via l'intera posta, altre volte no, ma non possiamo mai perdere di vista che l'obiettivo finale è quello di poter arrivare nell'ultima parte del campionato cercando poi di sparare tutto quello che abbiamo. Grazie a tutti!